Sì, sono soffertissimi contro una buona squadra, che ha giocato bene. Ma la mia squadra ha avuto la possibilità di fare anche il secondo gol. Perchè abbiamo sbagliato troppe occasioni. Sta molto brava nei momenti difficili a soffrire fino alla fine. Un bravo ai ragazzi che hanno meritato questa vittoria. Un bravo ai ragazzi che hanno meritato questa vittoria.